C'è il cambio con solo e da questo momento per voi il regalo di Shock Rock e Joshua Hiroshi. Siete pronti a saltellare? Fammi vedere se sei ancora capace di saltellare. Ultima razza, invincibili, immortali. Siete pronti a saltellare? Siete pronti a saltellare? Perché così è stato scritto. Un'altra pagina di storia questa notte è stata scritta sul libro Shock. Siamo come le pagine di un libro e questa è la nostra storia. Joshua Hiroshi, solo per voi. Inversione sotto Shock. Shock. Ci rappella! Tommi! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti